Terza posizione, numero 408, Carmelo Catania. Premiare, già con la rete, che magari tra qualche anno sarà qua in pista. Secondo gradino del podio per il numero 405, Niccolò Grieco. E sul gradino più alto del podio con il numero 401, Marco Barazza. Il podio con i tre protagonisti della finale del gruppo 1. Un bel applauso. Grazie a tutti. Alla prossima.